La situazione che stiamo vivendo può essere molto difficile per la popolazione anziana. Una parte variegata della popolazione che va dai 65 fino a oltre i 100 anni. In questi anni può essere davvero difficile accettare di non poter uscire di casa, vedere tutti i giorni i propri cari, non recarsi in chiesa, non poter fare il giretto o anche solo non andare al negozio sotto casa a fare una piccola spesa. Tuttavia è importante comprendere come le norme date siano a tutela della loro salute e anche a quella pubblica ovviamente. Sicuramente familiari e collettività sanno rendersi presenti al cuore e agli affetti degli anziani e anche a quelli che vivono magari in condizioni di solitudine. Lo stesso comune ha attivato diversi servizi di cui si può facilmente usufruire. Però che cosa davvero può spaventare in questa situazione? Spesso gli anziani non si spaventano solo per il timore di ammalarsi, ma anche pensano frequentemente ai loro cari o magari si sentono inutili, mentre prima potevano avere dei ruoli che svolgevano quotidianamente. Lo stare in casa per gli anziani non è una novità. Molto più dei giovani gli anziani sono abituati a vivere nella propria abitazione. Può accadere tuttavia in questo periodo in cui si prova ansia di non avere più voglia di fare niente, di sentire un desiderio di lasciarsi andare o di essere troppo attivati a sentire tutti i giorni le trasmissioni che parlano di coronavirus e delle terribili conseguenze. Alcuni piccoli consigli. Cerchiamo di non trasformare l'ansia, che è un'emozione che ci aiuta a tenerci lontani dai pericoli, in angoscia. L'angoscia non porta a nulla. L'angoscia può essere evitata mantenendo un minimo di equilibrio nelle attività quotidiane. Ad esempio, cercare di occupare il proprio tempo con quello che piaceva anche prima. Non è una colpa dedicarsi ad attività piacevoli. Non è una colpa avere piacere di, per esempio, alimentarsi ancora bene. È molto importante che gli anziani mantengano una corretta alimentazione perché questo aiuta il sistema immunitario. Non dedicarsi solo alla pastina e alla robiola o allo yogurt, ma pensare anche di cucinare per sé. Ciascun anziano se lo merita. Un buon manicaretto. E perché no, dedicarsi magari al riordino di quel cassetto con le vecchie fotografie che non si vedono da un po' e a cui può essere interessante aggiungere una postilla che dica quando sono state fatte, come e con chi. Cosicché quando si potranno condividere con i propri familiari avranno la possibilità di conoscere meglio la storia del nonno o della nonna. e anche per la collettività sarà un arricchimento, la testimonianza di una popolazione che ha fatto la storia e che anche adesso è preziosa per la vita di un paese come Bernareggio. Quindi, insieme, si può cercare di lavorare perché gli anziani continuino a essere la risorsa per la società che sono sempre stati. Grazie. 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 Grazie.